Allora archiviamo subito il pareggio deludente in Champions League contro il Borussia Mönchengladbach perché non c'è sosta, non c'è tregua e si scende di nuovo in campo immediatamente sabato 24 ottobre ore 18, l'Inter di Antonio Conte fa visita come abbiamo detto al Genoa di Rolando Maran noi di Passione Inter saremo in diretta dalle 16.45 per darvi in diretta in tempo reale le formazioni ufficiali della partita e poi saremo live per tutta la gara su tutti i nostri canali social, su YouTube lo stesso Twitch ovviamente quindi mi raccomando iscrivetevi al nostro canale, commenteremo la partita insieme qui in chat e poi nel post partita le nostre pagelle la nostra analisi con Simone Frizza, mi raccomando quindi iscrivetevi al canale così non vi perdete la nostra diretta, la potremo commentare insieme come ci arrivano Genoa ed Inter a questa partita partiamo dai padroni di casa che sono allenati come detto da Maran e hanno vissuto settimane, giorni molto particolari e con un focolaio molti positivi nel gruppo squadra, fin qui il Genoa ha giocato quindi tre partite di campionato, una è stata rinviata quella contro il Torino la vittoria per 4 a 1 sul Crotone, quindi la sconfitta pesante per 6 a 0 col Napoli e poi il pareggio 0 a 0 contro il Verona nell'ultima partita giocata, quindi nonostante le difficoltà comunque quelli col Crotone e col Verona sono stati risultati importanti per la formazione genovese che nella mia proiezione di inizio anno non partiva sicuramente tra le favorite, comunque partiva in un'opposizione come pronostico molto bassa in classifica. La buona notizia per il Genoa in queste ore è che di fatto Maran ha recuperato quasi tutti i calciatori positivi che si sono negativizzati in queste ore di fatto l'unico ancora positivo se le notizie delle ultime ore non ci smentiscono è Males che tra l'altro è arrivato al Genoa proprio dall'Inter Giovane prelevato quest'estate dall'Inter poi girato subito al Genoa Maran in queste ore sta facendo le ultime valutazioni comunque la formazione dovrebbe essere un 3-5-2 con Perini in porta Bani Zapata al centro della difesa titolare con Masiello a centrocampo c'è un ballottaggio Ghiglione a destra Badel Radovanovic dovrebbe giocare ma c'è il ballottaggio con Berami il giovane Rovella confermato al centro con Ciborra a sinistra a completare questa linea a 5 Panda in attacco con Scamacca che insidia Shomuro dopo quindi anche questo ballottaggio in attacco il sicuro del posto è l'ex interista Goran Panda tra l'altro attenzione a lui perché nonostante l'età è sempre un grande pericolo soprattutto quando vede l'Inter casa l'Inter come detto c'è da archivare il pareggio col Borussia Mönchengladbach in Champions e ovviamente il K.O. col Milan in campionato nel derby in conferenza Conte comunque a me è sembrato sereno nonostante la situazione assente abbastanza impegnativa seppur come detto con qualche buona notizia che finalmente comincia ad arrivare anche dalle parti del piano gentile partiamo dagli assenti Young è finalmente negativo ai test ma non ci sarà perché bisogna ottenere l'idoneità sportiva poi soprattutto è stato fermo in questi giorni e quindi deve ritrovare anche la miglior condizione fisica ma comunque ci siamo ormai finalmente per il rientro di Ashley Young ormai imminente fuori resta fuori ancora Milan Skriniar così come Gagliardini e Radu per entrambi per tutti questi tre calciatori si sta aspettando appunto il tampone negativo si aggiunge a questa lista degli assenti anche Alexis Sanchez a causa di un problema muscolare e in vista della sfida col Genoa salvo clamorosi colpi di scena che comunque non ci aspettiamo resta fuori anche a Shrafakimi che è stato il caso delle scorse ore il caso che avrete letto sicuramente sul nostro sito passioneinter.com risultato positivo come detto poche ore prima del fischio d'inizio della gara col Borussia ha saltato la gara di Champions poi è stato sottoposto ad un nuovo tampone nella giornata di giovedì che ha dato esito negativo nell'escorsione quindi dopo una prima positività al secondo tampone risultato negativo subito dopo ne è stato fatto un altro e siamo ancora in attesa dell'esito del terzo tampone di fatto di Ashrafakimi un esito che potrebbe dovrebbe arrivare prima dell'inizio della sfida col Genova c'è chi dice che possa raggiungere comunque all'ultimo la squadra a Genova ad aggregarsi in caso di negatività ma ormai io andrei a considerarlo fuori dalla sfida di Genova la cosa buona però è che se risulterà negativo al secondo test ovviamente deve risultare negativo al secondo test e ce lo auguriamo di sicuro però ci sarà martedì quando si giocherà ancora una volta in casa dello Shakhtar in Champions League intanto però contro il Genova sono innanzitutto arruolabili dal primo minuto Alessandro Bastoni che aveva già giocato una parte della gara col Borussia e sarà probabilmente titolare come detto torna anche Nainggolan che era già in panchina in Champions e andrà in panchina salvo sorprese dell'ultima ora anche Stefano Sensi che aveva avuto qualche problemino sembra averlo smaltito e dovrebbe essere quindi arruolato in panchina in campo invece Andanovic in porta confermatissimo ovviamente D'Ambrosio sulla destra vista l'assenza ancora di screener De Frey di nuovo centrale ovviamente non si tocca a sinistra la piccola novità rispetto all'ultima sfida con Bastoni in vantaggio su Alexander Korob che dovrebbe andare in panca D'Armian confermato a destra dopo la buona prova fornita in Champions Vidal a centrocampo con lui si candida fortemente a giocare al centro della mediana Marcello Brozovic potrebbe partire titolare Brozovic con Perisic ancora a sinistra sulla tre quarti qui arriva la sorpresa che immagino farà discutere di nuovo Barella con Christian Eriksen che al momento secondo la Gazzetta dello Sport e secondo gli altri portali e le altre testate dovrebbe andare in panchina quindi Christian Eriksen dopo la prova di Champions contro il Borussia in attacco scelte praticamente obbligate in panchina Vapinamonti che tra l'altro è anche un ex titolari Lukaku e Lautaro Martínez con Alexis Sanchez assente fatemi sapere anzi vi metto anche in evidenza la formazione nel banner che vedete scorrere qui sotto così potete anche rileggerla fatemi sapere che cosa ne pensate di questa formazione se è la formazione giusta o se avreste dato continuità ad Eriksen magari sulla tre quarti so che in tanti lo volevano di nuovo titolare per poterlo testare su più partite vi ricordo ragazzi che dalle 16.45 saremo in diretta per darvi le formazioni ufficiali e poi commentare tutta la partita insieme a voi e le pagelle nel post partita quindi mi raccomando iscrivetevi al nostro canale così non vi perdete la live e ovviamente tutte le dirette che facciamo ogni giorno alle 19 tutti i video che pubblichiamo ogni giorno sui nostri canali grazie a tutti grazie a tutti